ok ok so there's vigo e parli italiano formaggio ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale oggi è una giornata bellissima volevo oggi vorrei provare una cosa molti di voi mi avete chiesto perché non parli italiano perché si può vedere che parlo francese spagnolo portugese nel mio canale ma perché non parli perché non parli italiano è arrivato il momento di rispondere alla domanda la sempre la stessa domanda perché non parli italiano perché parlo spagnolo nel tuo canale perché è tutto ma oggi perché quest'anno perché quest'anno volevo vorrei cambiare le cose vorrei parlare più in italiano e migliorare il mio livello il mio livello prima di tutto ho trovato la voglia di interagire con le persone di interagire con le persone di parlare di scoprire scopi scoprire su di aprire la mente di so so questo è oggi andiamo a comprare qualcosa di vorrei parlare in italiano in realtà non lo so perché negli ultimi tre anni negli ultimi tre anni non ho parlato italiano spesso non parlo spesso non parlo spesso in italiano i negli ultimi tre anni ho parlato questa lingua ho parlato in italiano come tre volte una volta con la mia amica con la nonna della mia amica adesso ho trovato la voglia ho trovato la voglia perché non parlo italiano bene oggi ho trovato la voglia di ho trovato la voglia di parlare in italiano quindi c'è qui vicino qui vicino c'è un ristorante non è un ristorante c'è un negozio dove si può parlare in italiano e volevo provare qualcosa da mangiare perché ho fame fa freddissimo fa freddo oggi fa freddo ok 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 wow so this has some meats they have some cheese everything everything is here yes and there's a sandwich here right yeah so this is in dundas near west delmo ok 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 so lesbico e parli italiano si anche io parlo 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 imparato fa molto tempo ma no si è stato in Italia di dove? in Italia si è stato oh tu no sono di sono di sono di Toronto hai sentato in Italia? no mai e come parlo italiano? in Italia ho imparato perché questa lingua mi sembra interessante ma l'ho sentito di questo panino? di bel di me c'è un panino qui? si come si chiama? vil? come si? yeah volevo provare uno voglio provare grazie adesso io per la macchia possibile quindi qui abbiamo c'è tutto qui tutto un po' di tutto tutto un po' di tutto formaggio abbiamo cacciatora prosciutto il caffè prosciutto italiano ahah sei sicuro che è buono? è proprio prosciutto ahah tutto tutto eh grazie oh oh santa alegrino olio d'oliva tutto sono venuto qua una volta e come vanno le cose è difficile è un momento difficile per tutte le persone a te ti piace tutto? tutto, tutti formaggio i funghi cipolla, peperoni cipolla, certo piccante? mi piace piccante va bene io ti provo a pronunciare così tu lo metti su Instagram si su Instagram mi piace anche mi piace Instagram avete Instagram? sì oh mamma Angelina mamma Angelina la mamma Angelina follow me mamma Angelina certo mamma Angelina grazie mille grazie mille grazie mille il panino il panino più famoso in Mississauga veramente veramente no non è è vero grazie grazie con amore grazie con amore certo mi voglio provare ehm qualcos'altro grazie mille c'è un... c'è un thing che ho vinti ah... Questo è tutto. Questo è tutto. Hai seguito? No. Qual è il nome di questo? Questo è canolo italiano. Canolo. Sweet. Mi piace. Italiano. La specialità. Specialità. Questo non ti voglio. Solo qui? Non ti voglio niente. È il tuo regalo. Ok, grazie, grazie. Torni tutto alla fine. Oh, torni tutto. Grazie. Grazie. Sono arrivato a casa. E' arrivato il momento di provare questo panino. Guardi. Cioè... Voglio aprire questo prima. Guarda, posso aprire con una mano. Un secondo. Ok. Come dobbiamo aprire questo? Ah, qui. Cosa c'è con il formaggio? Cosa c'è con il formaggio? Cibolle. Cibolle con la... Tutto qui dentro. Ok, quindi è tempo per provare. Cosa. Oh, sarà buonasera! E' buono Mi piace il formaggio Con tutto qui dentro Mi piace moltissimo I bit my tongue earlier So it really burns my mouth That's why I'm kind of like in pain right now But it's worth it For this panino Awesome They gave me Questo è un regalo Della mamma angelina Questo Questo è il panino fatto con amore Della mamma angelina If you like the content of this video Make sure to subscribe And check out my other videos on the channel I have videos on several other languages Such as Ukrainian, Russian, Spanish, French, and Portuguese Plenty of videos on my channel For you to check out and binge See you next time See you next time Bye 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 Koch manifested teraz